Una nuova fortissima scossa di terremoto ha svegliato il centro Italia alle 7.40 di domenica. La magnitudo verificata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stata di 6,5 con epicentro tra Norcia, Precevisso e Castel Sant'Angelo sul Nera, a 10 km da profondità. Ne è seguito uno sciame sismico con diverse altre scosse. E anche Arezzo trema nel vero senso della parola perché il sisma è stato avvertito distintamente in città e in tutta la provincia ma trema anche di paura perché Arezzo è la sua terra, sa bene cosa sia il terremoto. Thomas Brown, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Arezzo, ha detto che questa sequenza sismica è naturalmente snervante per le popolazioni colpite ma l'unica cosa positiva, se si posare questo termine, è che questi movimenti non siano avvenuti tutti insieme. Se ciò fosse accaduto, la magnitudo sarebbe stata molto più forte, vista la durata delle scosse, è una situazione analoga a quanto avvenuto a Colfiorito. Nel giro di un'ora dalla scossa, nove vigili del fuoco aretini sono partiti alla volta di Norcia per dare manforte ai colleghi che sono sul posto. Purtroppo non siamo in grado di prevedere quanto e come tale sequenza sismica andrà a scemare, a sottolinearla è una nota del CNR. Nei comuni dell'Aretino sono immediatamente partiti controlli sugli edifici pubblici, non si registrano danni. A Sansepolcro, spiega il sindaco Cornioli, la scossa è stata avvertita in modo molto forte ma fortunatamente non è stato registrato alcun danno. I tecnici del comune alle 11 avevano già compiuto sopralluoghi alla risurrezione al Duomo e stavano svolgendo accertamenti nelle scuole e non c'è niente da segnalare. Le scuole sono regolarmente aperte nella giornata di lunedì. La partita tra Sansepolcro e Rieti, invece, è stata rinviata. La prefettura e la provincia hanno immediatamente attivato tutte le procedure previste dai piani integrati di protezione civile e tese a verificare attraverso i vigili del fuoco, le forze di polizia e i comuni la presenza di eventuali situazioni di criticità. Per fortuna non ci sono state problematiche di carattere emergenziale. Tuttavia, in chiave prudenziale, sono state effettuate ulteriori verifiche nell'ambito dei singoli comuni. La prefettura, insieme a provincia, vigili del fuoco e forze di polizia, segue costantemente la situazione in continuo contatto con i comuni.